scusami è questa no non è quella è quella qua questa qua la faccio in un modello sto qua mi pare che ok ragazzi benvenuti eccoci qua al quinto episodio di reveal the actor the show oggi come ospite abbiamo antonio de matteo posso dire che l'ho conosciuto anni e anni fa al centro sperimentale lui stava due anni avanti rispetto al corso dove ero entrato io e per me era faceva parte degli attori quelli grandi ovviamente in realtà ho scoperto che abbiamo un anno un anno di differenza diciamolo diciamo fino all'altro ieri insomma nutrivo grandissimo rispetto ma lo mantengo ancora il rispetto però dico cazzo ma siamo coi tani sono un po' intimorito devo dire la vita però confidente del fatto che ci sia tu però appunto è la prima volta che faccio un'intervista vediamo un po che succede vai 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 quanti anni sono che recitite quando ho cominciato realmente a prenderla sul serio perché prima appunto era semplicemente un gioco ecco quello che possono fare i bambini e giocare è stato al liceo scientifico durante un'occupazione abbiamo fatto nel 94 95 e incontrato questa insegnante che non è la mia insegnante diretta scuola di francese che si era unita all'esperienza della gestione della scuola e aveva cominciato a mettere su un laboratorio di teatro tra vari laboratori che c'erano all'interno dell'occupazione del lato gestione c'era anche questa cosa qui e io sono sono impazzito che anno era questo 95 no dico che anno scolastico 94 95 quindi in che classe stavi io stavo in quarto liceo non volevo dire in età volevo lasciare le persone quarto liceo perfetto quindi lì ti è presa io ho cominciato a capire che quella cosa lì mi piaceva più di qualsiasi altra cosa veramente mi piace stava sta proprio bene sul palcoscenico e quindi quando si è entrato dal centro sperimentale come come li hai vissuti sti tre anni beh un entusiasmo a palla proprio a palla qualunque cosa io mi sono rotto e non mi rendevo conto saltavo tutto quello che mi dicevano di fare io facevo con una testa abbastanza quadrata sull'accademismo sulle cose che bisognasse studiare lavorare su se stessi quando in realtà bisogna prendersi poco sul serio questo poi l'ho scoperto con il tempo qual è stato per te lì dentro insegnante che ti porti per me è stato fondamentale quello che io ho considerato uno dei vecchi maestri della recitazione del teatro europeo nicolai karpov che nicolai con la sua disciplina non pedante non petulante ma attiva mi ha fatto capire che bisogna lavorare tantissimo su se stessi sul corpo ma soprattutto su se stessi e fare esercizio costantemente mantenersi in allenamento costantemente per questo lavoro la particolarità di nicolai karpov al di là di tutto il metodo una cosa che a me piaceva che la suddivisione come dire della scena la ripartizione in micro atti come dire no in micro momenti micro situazioni e studiarsele agganciando l'una presso all'altro azione reazione questa cosa che mi... e lui è stato l'ultimo dei degli alunni di Meyerhold con il metodo della biomeccanica del movimento cioè la destrutturazione fino all'estremo al controllo costante di tutto il movimento anche se era un'azione veramente eccessiva eloquente quindi di movimento anche abbastanza ampio ginico spesso e volentieri il controllo anche di quello qual è stato il tuo lavoro come attore diciamo più importante televisione adesso l'ultima esperienza che ho fatto è una cosa un lavoro di cui sono molto orgoglioso ed è leonardo la serie una serie internazionale con attori internazionali tra cui anche matilda de angelis che è la protagonista femminile ed entran che il protagonista maschile che fa leonardo che vedremo tra aprile e maggio ed è stata un'esperienza quindi guardatela assolutamente poi mi direte tramite i miei social poi fateci sapere insomma cosa ti piace esatto con quale persona ti sei trovato con quale attore con quale collega ti sei trovato meglio su quel set guarda sarò fortunato sarò compiacente dite quello volete però io mi sono trovato benissimo con tutti chi è umanamente un po più scostante naturalmente a un certo punto mette un limite però per esempio c'è stato un ragazzo matthew matthew non mi ricordo scusate il cognome che fa un ciambellano con cui mi sono trovato benissimo inglese eden è spettacolare matilda con i suoi tempi è molto divertente poi c'è c'è anche la sua necessità di certo punto basta cioè basta giustamente carlos cuevas che è un attore tutto in inglese tutto in inglese e poi i ragazzi italiani questo set è stato bellissimo io non volevo smettere ho dato anche tre di quattordici quindici 16 ore di consecutive di lavoro perché mi hanno chiesto perché eravamo con tempi distretti per il colpa del covito abbiamo dovuto posporre ma poi c'era tutto quello che veniva dopo ognuno c'era i suoi altri incastri da mettere quindi dobbiamo siamo abbiamo dovuto correre e addirittura un giorno io mi sono dovuto ho dormito a dieci metri dal campo base dove stavamo lavorando perché il giorno dopo avrei dovuto ricominciare cioè quindi ho finito alle quattro del mattino e ho ricominciato tipo alle sette e mezza otto ma sì sì se fa se neanche ti sei cambiato sono andato a dormire sono cambiato ho fatto una doccia perché comunque ho una capigliatura che vedrete è una roba una roba stupenda ma quante sono otto puntate una mini serie una serie e andrà in onda su rai 1 inizialmente è prodotta da sony tv sony picture tv e poi da è la prima grossa alleanza europea di un prodotto trasversale tuo ruolo sanseverino sanseverino un bel che personaggio è un bel che poi vedrete è cattivone ed è particolare sì sono molto molto contento e come ti sei preparato su sto non so di che parla cioè che è la vita di leonardo è la vita di leonardo da quando c'era 20 anni quindi ogni puntata sarà un'opera di leonardo incastrata con il macro plot che è quello che accade intanto politicamente socialmente e umanamente a leonardo e ogni puntata ci sono le diverse opere di leonardo tra cui anche l'ultima scena la gioconda io per esempio è stato un momento in cui mi sono emozionato la prima volta che avevo questa scena bellissima con leonardo con eden matilda e carlos perché fai il suo aiutante entro nello studio di leonardo e loro l'avevano ricostruito minuziosamente ed è una produzione stupenda ragazzi è una roba mai vista in vita mia e sono entrato e c'era questa scena io dovevo correre entrare cercare leonardo perché dovevo essere abbastanza cattivo con lui ma anche un po circospetto che stavo cercando di capire che fine avesse fatto e all'improvviso cioè è fatta un corridoio e poi c'è una L e nell'angolo di questa L c'era la gioconda ti giuro per un attimo ho detto la gioconda sto vivendo nell'epoca di leonardo cioè è stato ben lì sono rimasto a fissarla il primo ciac è stato così che era un cosiddetto Antonio Antonio si 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 scusate ho realizzato adesso che oltre al film c'è questa esperienza umana che io su questo set più che su altri sono rimasto sono riuscito a rimanere bambino c'erano i costumi c'erano duelli di cappa e spada io sono quello che fa i duelli corse sui cavalli mi sono diventito come un bastardo la cosa bella dell'attore della recitazione è che comunque si ha la possibilità attraverso questi progetti questi lavori di mettersi alla prova e mettere anche in campo tutta una serie di qualità che fanno parte dell'attore andare a cavallo quindi cappa e spada quindi saper tirare di scherma ballare danza non so se c'è canto c'è tutta la performance parlare in inglese parlare in inglese stare appunto su un set dove si parla in inglese con altri tempi cioè che poi penso siano produzioni pazzesche si si era una produzione ed è stata lì un'esperienza anche da attore ma non da attore dell'establishment o del lavoro al di fuori proprio come attore come il principio per cui ho cominciato a fare questo mestiere insomma da anche la possibilità di provarti e di fare questa persona di valorizzarti anche di valorizzarti poi non ci pensi in quel momento no 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 in quel momento no però di cavolo sto facendo la tua proposta esatto faccio io questo io sono questo metto in campo le mie capacità al servizio di e viene anche apprezzato assolutamente viene apprezzato e se stai andando in un'altra direzione ci sono persone che ti questo regista che è bravissimo ti accompagnava in un modo abbastanza inusuale di cui non ero abituato realmente cioè ascoltava la tua proposta vedeva quello che gli serviva e giustamente poi ne abbiamo parlato poi a cena gli attori lasciar fare gli attori questa cosa che è un po' difficile in Italia perché si ha paura si ha paura di dover gestire non direi proprio gestire però veicolare il proprio pensiero da autore regista sceneggiatore e metterlo in mano a qualcuno che pensi non ne sappia quanto te in realtà lì lui mi ha detto giustamente Aiden come Matilda come te come tutti gli altri come James Dorsey come Alessandro Sperduti Carlo Squevas hanno lavorato per mesi e mesi e mesi sulla costruzione di un personaggio emotivamente mentre io dopo aver scritto aver fatto consulenze con gli sceneggiatori che continuano a scrivere però a cui voi avete cominciato a dare vita movimenti, emozioni e gli stati d'animo che devono poi avvenire in scena e poi relazionarsi con gli altri perché il lavoro dell'attore non è solo il lavoro del singolo attore è fondamentale e la cosa fondamentale di cui poi ti rendi conto quando cominci a lavorare è l'ascolto l'ascolto è fondamentale ma lo devi praticare nella vita bisogna praticarlo nella vita prima ancora che è sul set sono d'accordissimo se tu cominci a parlare con le persone cominci ad ascoltarle adesso per esempio se uno non ci fosse ascolto io non riuscirei a fare un'intervista le persone se tu quando vedi delle interviste che sembrano strane perché secondo me non ci ascolto anche qualunque tipo di programma bisogna essere esportabili e questo secondo me è esportabile perché ha un riconoscimento facile anche all'estero parlando di cose assolutamente italiane e nostrane con gli attori italiani però è un format è una modalità anche di chiacchiera molto più estera sono contento infatti veramente mi fa piacere che stai qua a me piace questa intimità l'intimità, mi piace anche capire cazzarola qual è stata la domanda qual è stata per te la cosa più difficile ed è la cosa più difficile da attore cioè col quale ti devi confrontare prima ne avevamo chiacchierato prima stavo cercando le cose mi è venuta adesso in questo momento la cosa più difficile è quando devi portare a termine un lavoro nonostante tu non riesca a capire quello che c'è scritto perché alle volte talmente vuoi fare nomi o cose però spesso e volentieri si trovano delle cose anche dei provini difficilissime perché sono non sono non è un lavoro anche su come dire le cose mentre in altri paesi esistono delle figure che sono i dialoghisti che fanno un lavorone enorme naturalmente lì dipende la quantità di soldi che costruiscono il significato il soggetto di quello che lo sceneggiatore il soggettista che ha scritto o l'autore lo mettono in parole ma parole sono gente che cerca il gergo che va a studiarsi in modo di dire di un posto piuttosto che di un altro in Italia questa figura è un po' bandita non si trova non ci si crede molto e spesso e volentieri le persone scrivono in maniera talmente letteraria che è difficile proprio doverle dire le battute e questa è la cosa più difficile ma è anche la prova più interessante cioè riuscire quelle perché pure qua ci sono due tipologie cioè di di affrontare questi questi problemi uno molti attori molti insomma una categoria di attore una parte di attore modifico cambio il testo cioè lo rendo più avvicino a me avvicino a me esattamente e lo propongo anche magari io personalmente sono invece sempre stato non so se per insegnamento deformazione per come ci hanno insegnato magari pure al centro sperimentale mi vengono date queste parole la mia bravura di attore ecco deve essere io devo utilizzare queste parole e renderle verosimili reali ma queste non le posso cambiare perché sennò levo il mio lavoro attoriale ma anche l'idea del personaggio che ti viene proposta e tra l'altro è l'opportunità per prendere quella non so se è giusto per me è giusto anche la capacità però quel materiale quel materiale tu lo puoi prendere per costruire il tuo nuovo personaggio questo nuovo perché sennò saranno sempre uguali perché dirai sempre le stesse cose allo stesso modo perché se lo porti verso di te ci sono diversi tipi di attori ci sono dei attori che come dire esistono sopra i personaggi ci sono degli attori che esistono insieme ai personaggi ci sono degli attori che stanno dietro ai personaggi poi ci sono degli attori che sono dei pazzi che si perdono nei personaggi a me questa cosa io se vedo troppo il personaggio fuori dallo stage o fuori dal set in un in un in uno dei personaggi vedo l'attore sì un oh e noi in italia tendiamo a fare questo perché a me da un po' incazzare perché non ci credo anche perché ti costringono ti posso dire in realtà tutto quel lavoro che noi non vediamo è che spesso noi italiani siamo molto criticoni con i nostri stessi prodotti e mi dispiace mi hanno fatto mi ci hanno fatto pensare ultimamente però spesso sono chi sta dietro la camera che ti chiede di essere quello che sei anche al di fuori oggi finalmente ci sono personaggi finalmente ci sono degli attori ed anche degli autori che ti chiedono qualcos'altro mi vengono in mente i mainetti che ti fa fare delle cose allucinanti e ti fa dimenticare di Santa Maria infatti il Santa Maria però si è dimenticato non è il Santa Maria che tu vedi in tutti i film poi il più grande secondo me in questo momento è Favino che lui si trasforma ditemi quello che volete ed è quella roba che io vedo nei grandissimi attori poi li riporta a sé perché quella è la sua impronta cioè Favino sa fare quella roba ma anche di più sa fare anche Favino altre persone sanno fare Marinelli è uno che fa la stessa cosa stupendo ma pure Alessandro Borghi che io ho conosciuto ho avuto la fortuna di lavorare in un piccolo film che veramente all'inizio io pensavo fosse molto più all'acqua di rose è un cazzo di professionista si fa un mazzo come una casa cioè tutto quello che vedi che sembra facile non è è il bello di questo che non è così facile Matilda è spettacolare io non me l'aspettavo per dire è una persona di una di una curiosità e come attrice va a cercarsi qualunque cosa le capiti attorno lei parla benissimo inglese non me l'aspettavo non me l'aspettavo minimamente però lei è stata bravissima bravissima in questa cosa è stata veramente incredibile e ce ne sono sempre di più sempre più giovani per fortuna ci sono questi autori che si stanno ricambiando che fa che permettono agli attori di essere altro veramente perché si è aperta probabilmente una competizione anche con l'estero una distribuzione questo ci ha portato meno male più internazionale da un lato ha abbassato una serie di i soldi che possono avere ah beh sia la parte che forse io per la mia idea sociale però sono aumentate le possibilità le possibilità la quantità proprio di progetti assolutamente non sei solo attore ma sei anche fotografo giusto si fa bellissime fotografie e cosa che non sapevo cioè nel senso ho scopato su Instagram mazza che figa che figa che figa che figa in realtà ci avevamo visti a un provino anni anni fa mi ricordo che era lo studio T lo studio T e là mi hai raccontato di questa storia che eri tornato dalla Spagna ero appena tornato dalla Spagna sì 2010 che hai cominciato a lavorare lì come fotografo in realtà la fotografia è una cosa che mi porto appresso tutta la vita e poi a un certo punto conobbi una persona che faceva la fotografa e stava mettendo su un'agenzia di fotografia nel 2005 quindi qui a Roma ok perché vede le mie fotografie ma perché non vieni pure tu siamo giovanissimi ci sono qualcuno che è già più impegnato io sono un fotografo amateur sono un appassionato non è ah non ti preoccupare va bene poi ti diamo noi degli strumenti ti facciamo capire come funzionano delle cose e ho cominciato ad avvicinarmi alla fotografia anche diciamo da vendita però l'ho sempre portata appresso tra l'altro era una cosa che mi piaceva anche dal centro sperimentale anche prima fui affascinato sono stato affascinato dal cinema anche da come viene presentato il cinema non capivo la fotografia era tutto un mondo molto più ampio e e l'ho cominciato a far diventare piano 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 da lì un lavoro perché poi mi hanno cominciato a pagare per quelle fotografie che facevo poi sono partito per la spagna che era un po' stanco di quello che stava succedendo non stava succedendo qui e dalla spagna ho fatto ho cominciato proprio a diventare un fotografo e adesso ho finalmente deciso che da un anno a questa parte sia un lavoro vero e proprio quindi ho cominciato a fare i book per gli attori tra parentesi ragazzi avete bisogno di un book ovviamente fatto da un professionista con qualità e con competenza che sa anche dirigervi perché quello è un altro aspetto difficile una volta che si sta di fronte all'obiettivo come cavolo mi devo posizionare è molto difficile io sono proprio il primo ad avere dei grossi problemi con questa di fronte a una a una camera che ti fissa in un'immagine sola davanti alla camera davanti a queste esperienze qui davanti a una cinepresa per me va bene perché devo interagire con qualcuno perché devo fare qualcosa devo muovere devo pensare a tutt'altro invece lì è proprio concentrarti su te che troppo c'hai per chi ci sta guardando anche magari tre consigli dici ragazzi ok dovete fare un book volete farvi fare le foto anche da vostro papà o da vostra mamma o che ne so io dal vostro amico vi consiglio per tirar fuori un qualcosina come attore quindi che state davanti all'obiettivo non dietro e quella è un'altra sono due misteri pure quelli tre consigli ti vengono in mente? allora molta pazienza non bisogna correre assolutamente io faccio dei book ci metto anche quattro ore cinque ore perché la prima oretta è proprio di conoscenza chi riesce a farlo così ci sono molti fotografi che lo fanno molto velocemente bravissie per carità ma lo fanno con gente anche più esperta però anche chi ha un po' di se esperta quando è stata davanti a una camera io direi un po' di pazienza cominciare col giocare con la camera e questo secondo adesso ci sono su internet ovunque soprattutto su Pinterest delle pagine sulle pose che è una cosa molto interessante perché non si sa quasi mai cosa fare trovare una pose capire qual è la linea che più ti funziona e questo è un gioco che si fa insieme bellissimo si lavora tu fai una foto la guardi gli fai vedere esattamente vedi perché questa cosa non ci piace perché che non sono pose da modella assolutamente ma sono proprio pose che ti danno una tensione un minimo di tensione perché quello che viene fuori ogni volta è sempre cascare le spalle l'atmosfera l'energia ecco l'energia passa attraverso l'immagine anche quindi anche le piccole tensioni che si creano nel corpo che è la stessa cosa di quando io facevo l'attore l'ho ritrovato con Nikolai Nikolai Karpov ci diceva sempre anche quando siete rilassati dovete avere consapevolezza del vostro corpo che non significa rilassati e poi stare sempre tutti così dritti no no proprio sapere che la tua mano sta qua la tua gamba sta qua e che se stai facendo una cosa la stai facendo anche in maniera naturale la devi fare in maniera naturale ma consapevolezza del fatto che sta là la mano e che probabilmente ti stanno prendendo da lì e che stai coprendo una cosa importante perché c'era una cosa qui una macchia che dovevano prendere con tutta l'inquadratura bello bello e il terzo è chiede conoscere il fotografo un minimo prima a meno un incontro tipo un caffettino una roba e cercare di di stabilire un contatto perché è un gioco a due e devi dire al meglio fuori voglio fare l'attore che consigli andresti a dare a te stesso tornando indietro per continuare a fare per fare questo mestiere con più serenità perché è solo questo perché poi ognuno fa le scelte che fa nella vita e segue il percorso che si sente di dover percorrere però con più serenità mi sarei detto non stai sbagliando anzi sbaglia il più possibile impara da questi errori assolutamente non aver paura di dover essere sempre perfetto perché non lo si è mai perfetto e continua a vivere la tua vita che stai vivendo e soprattutto studia studia significa guarda la vita che è intorno a te e cerca di capire come poterla portare se naturalmente la tua voglia è quella di creare dei personaggi reali che poi c'è il surrealismo che è tutto un altro tipo di aspetto però se tu devi trovare il modo per studiare giorno dopo giorno con esercizi anche semplicemente fisici capire anche quali sono le tue debolezze non aver paura di guardarsi guardarsi allo specchio cioè apprezzarsi come essere umano e lavorare e studiare costantemente prima di tutto secondo me studiare ok proprio fondamentale e continua a dire quello di prima l'ascolto cioè questi sono ascoltare non solo significa sulla scena ma proprio nella vita quello che ti sta accadendo dall'altra parte quello che c'è dietro la camera se qualcuno ti sta guardando che palle ma sti cazzi questa sacralità c'è ci deve essere ma dentro di te non fuori si 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 poi devi tu col tuo impegno con la tua passione con il tuo tipo di lavoro dimostrare che loro devono stare in silenzio poi lo devi chiedere perché se si esaggia lo devi chiedere a volte succede spesso succede però questo l'ha dimostrato anche Al Pacino nessuno sul set di del padrino ci credeva a quell'esserino così piccolo non ci credeva nessuno lo prendevano per il culo i macchinisti lo prendevano per il culo l'unico che ci credeva era Fancy's for Coppola ha fatto la scena che è quella della della sparatoria dentro al ristorante quando ha ammazzato il tipo la gente è rimasta ammutolita da allora in poi è cambiata la sua vita e lui non gli fregava un cazzo lo sapeva non gli fregava un cazzo è quello che deve andare dritto per la tua strada allora cari actors eccoci qui arrivati alla fine di questo episodio spero che vi sia piaciuto ovviamente quello che vi chiedo e vi rammento sempre ring the bell iscrivetevi condividete soprattutto e andate a seguire il caro Antonio sui suoi social ovviamente se vi serve un bel fotografo e fa anche non l'abbiamo detto lo diciamo velocissimamente se vi serve anche self tape cioè dovete presentare un vostro lavoro su una scena ci sono i self tape e lui è anche regista di self tape esatto con la stessa modalità quindi ci mettiamo un po' più di tempo dei 20 minuti 10 minuti con una letta che si fa solitamente grazie e a presto alla prossima alla prossima